Cambio destinazione d'uso sì, ma non si sa come. Il Consiglio Comunale di Pescara oggi ha aperto la seduta mettendo sul tavolo quello che sembra essere una contraddizione in termini tra normativa e applicazione della stessa. Se da un lato sarà possibile sbloccare tante situazioni di stallo edilizio permettendo il cambio di destinazione tra commerciale e privato, dall'altro sembra molto più complicato mettere nero su bianco una regolamentazione per la sua applicazione. Noi speriamo che si possa scrivere una delibera che sia efficace per salvaguardare due aspetti fondamentali. Da un lato ovviamente sempre l'interesse generale della città per fare in modo che le variazioni comunque rispettano le scelte del suo sviluppo armonioso dall'altro anche quello di fornire uno strumento utile per coloro che fanno economia in questa città. Qual è in realtà il problema che tiene bloccata questa norma e soprattutto la sua applicazione? Innanzitutto il fatto che dopo 20 mesi dall'approvazione della norma statale il Comune non ha ancora disciplinato la materia. Per evidenti responsabilità di questa amministrazione comunale ma anche del governo regionale guidato da D'Alfonso che avrebbe dovuto recepire con una propria legge la disciplina nazionale invece non l'ha fatto. C'è il rischio di un caos regionale? Sicuramente c'è il rischio che non ci sia un'unitarietà di intenti e comunque di regolamentazioni. Qualcosa che chiediamo noi è quello appunto di sottoporre al contributo straordinario tutte le pratiche che vengono presentate in base al decreto sviluppo, allo sblocca Italia e anche al recupero abitativo dei sottotetti. Questo vediamo che ad esempio nella regione Veneto viene sottoposto il pagamento del contributo straordinario.